bella ragazzi bentornati sul mio canale sono raymond e rieccoci su far cry primal allora non ricordo dove siamo scusate se torniamo dopo un po ma ho finito di registrare tutto resident evil e quindi ho magari ho dato un po più spazio a resident evil e altri giochi prima di arrivare su primal bastardo purtroppo ti hanno ammazzato che com'era non mi fa frugare ottimo ok questo sì e quindi sapete ovviamente che per me non è una fonte di reddito youtube però mi piace farvi vedere i miei progressi quando ho tempo magari registro un bel po di video quindi ovviamente mi dicevo non è una fonte di reddito perché sono uno studente io studente universitario poi fatto che faccia qualche lavoretto giusti computer non diciamo non non è che io abbia reddito mio allora andiamo a qual'era la missione che stavamo facendo vuoga l'artefice ok dobbiamo portarlo a casa poi dicevo registrato resident evil 3 perché siamo io l'ho finito quindi vi propongo il finale di sergione prima di iniziare ragazzi qui sotto c'è qualcuno ok perché non l'ho ammazzi guarda 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 dove cade ah ok c'è una iena credo ok c'è il finale di stagione di resident evil prima di iniziare il 4 sto registrando nel momento in cui voi già avete visto assetto corse quindi un nuovo gioco quindi capite che il lavoro dietro è davvero davvero molto ragazzi e con tutto il fatto che non c'è un guadagno almeno per ora è ok questo gioco mi piace moltissimo madonna mamma mia ok corriamo perché davvero il nostro animaletto insediamenti insediamenti sono campi controllati conquistali tutti ok quindi siamo finiti in un insediamento addirittura perché mai non lo so il mio obiettivo ha a proposito vieni qua dai che l'hai messa in fuga non fa niente e curiamolo poveretto è il primo gameplay di prime a proposito con lo facecam ragazzi quindi capite bene che sarà bella sarà bella tosta eh sarà bella tosta in ambito editing portarvi questo gioco perché parliamo di tanta 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 elaborazione tanti 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 minuti per portarvi questo gioco che si aggiungono ai minuti in cui vedere le parti in cui tagliare guardate che spettacolo però questo gioco avete detto avete detto metti la facecam poi webcam non è perché io uso una videocamera quindi il taglio audio è il taglio audio si la parte video è molto più elaborata rispetto a quella che può essere una webcam però se a voi piace cerchiamo di accontentare un po' tutti c'è un ragazzo a cui ancora non rispondo però mi è arrivata la traccia sul cellulare che mi ha scritto praticamente mi ha commentato l'assetto forza fatto guarda perché non porti pure clash of clans eh beh è da pensarci eh perché già sono una caterva le cose che vi porto non vorrei mettermi in un autostrada portarvi un casino di cose e poi non portarvi nulla allora abilità abilità raccolta mostre risorse legna pietra risorse del villaggio vengono visualizzate sulla minima non sarebbe male però direi di domare i felini ne possiedo 5 di punti abilità ottimo i pianti appaiono sulla minima pochi apprendi rivela terreno apprendi tanto visto che ce l'ho prendiamo anche questa ok mi sta morendo la velva va poveraccio però momentaneamente lo lasciamo lì raga si credevo di essermi buggato invece ancora no mi sta morendo il lupetto però pazienza eh eh muori in pace se la tua velva ti anima nel menu pelve quindi io praticamente come faccio? ok ok tutto qui ok 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 ragazzi facciamoci qualche freccia ok ingredienti mancanti vabbè va bene va bene spero che questo gioco vi sia piacente scusatemi solo se non parlo in alcuni punti però quando non parlo sapete che sono veramente veramente preso ok dovrebbe essere tu sei qua sotto oh ma ok stavo venendo sotto non so non so ma tutti quanti io ci trovano o ci prendono appalate nessuno è normale ottimo proprio io ultimo le vince questo sta messo legge di Tensei vi vedete sbarbato ci mancherà un braccetto intrappola questa velva non può seguirti ok fuggi dalla caverna ha detto niente carne ah aspettate incendia forse perché se brucia qui c'è un passaggio sotto vedete se mi butto nell'acqua non dovrei subire danno si però magari se riemergo raga questo ne ha ammazzate l'ira di dio mi sa eh fatemi vedere una cosa posso domare pelva come si buttava la carne esca come si buttava come si buttava come si buttava allora raga vedo un attimo allora dove erano opzioni comandi controller posso il tastiera personalizza i comandi allora ti cura ti lancia lancia eh menù cibo no esca 7 ok ok eh si amico caro però se non me lo dai il 7 non me lo dai muvizioni al massimo eh non me lo dai muvizioni al massimo eh è il 7 non me lo dai perché a me non cambia nulla ammazzarla eh anzi però se ho la possibilità se ho la possibilità se ho la possibilità mi piacerebbe ah ok dov'è? dove stai? tasto centrale del mouse ragazzi è ora che so come si va non c'è non c'è sabbill eh la cosa è assurda ok però nel caso in cui la dovessimo ma no oh abbiamo un artiglio ok hai trovato uno strumento strano cerca le icone ok l'ho trovata avvicinati fin quando non vedi l'indicazione del rampino poi usa la E ragazzi l'abbiamo vista era lì tutto qui tutto qui? ok usiamo il mouse c'è un checkpoint ragazzi con degli arbusti con degli arbusti si sto a prendere fuoco pure io com'è possibile? non lo so però dai lo va bene anche qui va bene anche qui fuggiamo ma cose strane artesia tu sa che è pieno si ma allora qua è da dove sono venuto no? quindi poterivamente da qui si esce ah vai su vai su vai su non 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 ok so precipitato sono precipitato ok ci siamo dobbiamo andare giù ci stacchiamo ma vaffanculo eh ragazzi io interrompo qui questa questa parte allora andrei a salvare ok io vado a salvare spero che vi sia piaciuto ma gli ho buttato l'esca e non la prende è un po' bastarduccio spero che vi sia piaciuto tanti tanti like e continuiamo nel prossimo gameplay con Far Cry Primal un bella dal vostro Ray faccio pure la rima ok 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 ok